Positivo il vertice con i sindacati dei medici e del comparto sanitario siciliano che si è svolto ieri pomeriggio. Il risultato è l'apertura alla stabilizzazione di 2-3 mila tra camici bianchi, infermieri, tecnici e paramedici precari che hanno alle spalle almeno tre anni di contratti a tempo determinato. L'assessore alla salute Ruggero Razza ha infatti firmato la circolare che recepisce le nuove normative nazionali e detta le regole sulle assunzioni di questo personale. Adesso la parola passa ai 17 manager sanitari che hanno tempo fino al 20 febbraio per contare i potenziali beneficiari e chiamarli in corsia. Ci saranno però delle regole. I precari che hanno già superato una selezione avranno diritto alla stabilizzazione diretta, gli altri invece godranno di una riserva di posti nei nuovi bandi. Un canale diretto sarà riservato ai precari, sia medici che personale del comparto, che abbiano già superato una selezione per titoli e colloqui ma devono avere determinati requisiti. Hanno diritto coloro che al 31 dicembre del 2017 hanno maturato almeno tre anni di contratto negli ultimi otto anni, anche se non continuativi e che risultino in servizio nell'azienda sanitaria dove vogliono essere stabilizzati dopo il 28 agosto del 2015. Per loro i manager dell'azienda potranno prevedere l'assunzione nei posti vacanti in pianta organica. Gli altri precari, ovvero chi non ha superato una selezione, godranno invece di una riserva di posti riservati quando saranno indetti nuovi bandi per coprire i posti disponibili. Una riserva pari al 50% che si contenderanno tra loro attraverso un'apposita selezione. Ma anche loro devono avere i requisiti richiesti ai precari reclutati con procedura concorsuale. Bisogna ricordare inoltre che le stabilizzazioni rappresentano solo il secondo step dell'intera procedura di reclutamento, che ha già visto in una prima fase lo scorrimento delle vecchie graduatorie ancora valide per ricoprire i posti vacanti delle vecchie piante organiche e che prevede anche i nuovi concorsi per i posti che resteranno vuoti alla fine dei tre precedenti step.